Dopo il 1938 sono andati a Roma a portare i canoni che è il Duce che presentava le forze armate a Hitler. E quindi lei era a Roma durante la visita di Hitler? Sì, sì, perché io a fare l'accordo sempre, io a presentare i due italiani a Hitler, dovevamo fare l'assilata al mattino alle 2 e abbiamo finito alle 2 dopo prendo 12 ore fermi portati a fare l'assilata. Perché prima passavano le divisioni a piedi, dovevano essere altri pesaglieri, artini, quelle roba lì. E invece quella tiria pesante erano gli ultimi che erano arrivati, capito?